Se qualcuno vuole venire dentro me, ritenghi se stesso, prendo l'occhio, l'occhio di un giorno, e mi sembra, prenda la sua cruce, mi sembra, di voler salvare l'altro, la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. E il giovane uomo guadagnare l'uno intero, se poi si perde, domina se stesso, chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il figlio dell'uomo, quando verrà nella curia sua e del padre, degli angeli santi.